Con l'arrivo di una donazione di 25 balle di foraggio è cominciata questa mattina a Paganica la raccolta fondi in aiuto degli allevatori danneggiati dall'incendio dello scorso 24 luglio lungo il fiume Raiale. Lo spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza della zona ha richiesto molte ore di intervento da parte dei vigili del fuoco, della protezione civile, delle forze, dell'ordine e dei volontari. La raccolta fondi è stata organizzata dall'ASBUC, amministrazione separata per i beni di uso civico di Paganica e San Gregorio. Già ieri sono arrivati questi 25 rotoli di fieno e speriamo che oggi e domani la gente capisca che sono due giorni fondamentali per gli allevatori che non hanno il fieno per accutire le bestie quando tornano dall'alpeggio. Innanzitutto l'incendio ha bruciato a questa gente il primo raccolto, dopodiché ha bruciato i mezzi per raccogliere il secondo raccolto, quindi sono con il sedere a terra, proprio papale papale. La fortuna è che le bestie sono all'alpeggio e appena torneranno dobbiamo fare qualche cosa per questa gente che comunque deve accutire le bestie in montagna. Qui non c'è il sostentamento per l'alimentazione e quindi siccome i nostri avi facevano così abbiamo ripetuto quello che facevano nei secoli, hanno fatto i nostri compaisani. La raccolta fondi continuerà anche nella mattinata di domenica ma è possibile fare un'offerta in alcuni bussolotti che sono stati distribuiti nei bar e nelle attività commerciali di Paganica e dintorni. Inoltre è possibile fare un versamento su un apposito conto corrente aperto per l'occasione indicando nella causale un aiuto per l'incendio.